Area ex armaguerra, la Giunta ha chiesto di rivedere il progetto di insediamento misto in parte commerciale, direzionale e artigianale che dovrebbe interessare dopo il suo recupero la ex fabbrica di munizioni che si trova alle porte della città. Un'area particolarmente delicata, già al centro di preoccupazione da parte delle categorie commerciali cittadine che temono un'esplosione di centri commerciali. Gli amministratori comunali intendono valutare il prospetto da un'ottica d'insieme e sulla base delle indicazioni e del parere della Commissione Paisaggio. Il recupero di aree dismesse, spiega l'assessore Andrea Virgilio, è un passaggio necessario e strategico ed è di fatto una sfida ad innovare e trasformare la città mantenendone sempre le radici e il suo profilo. Occorre dunque mantenere il giusto equilibrio fra istanze paesaggistiche da una parte ed esigenze architettoniche ed organizzative dall'altro. L'area a cavallo della tangenziale Ovest sembra di improvviso tornata in auge in seguito a diverse richieste per il recupero della zona periferica un tempo occupata da industrie, tra le quali l'ex Armaguerra ma anche da aziende ancora in attività come la Gaspardo in procinto di trasferirsi. E' proprio su quest'ultima azienda che ha avanzato la richiesta di trasformare l'area da produttiva a commerciale che si sta concentrando l'attenzione del Comune e delle associazioni del commercio, vigili su trasformazioni che possano aprire alla costruzione di grandi strutture di vendita. In particolare Confesercenti ha richiesto un incontro urgente al Comune sulla Gaspardo, fissato già per venerdì pomeriggio.